Il senatore Ulisse Di Giacomo bacchetta il governatore Paolo Frattura in materia di sanità. La legge regionale che dovrebbe legittimare i piani operativi è una bufala, secondo il parere del parlamentare del centrodestra. Una furbata per prendere tempo, mesi, forze, anni e quindi mantenere lo stato di cose così com'è. Ancora per molto, con il rischio, continua Di Giacomo, che gli ospedali pubblici andranno verso la chiusura, soprattutto quelli minori di Venafro, Larino e Agnone, l'assistenza sanitaria ai pazienti collasserà e qualcuno, pochi, continueranno ad arricchirsi a spese della massa. Attualmente l'ente regione, al di fuori delle indicazioni del governo di Roma, non può legiferare nulla in materia di sanità, poiché soggetta al piano di rientro dei debiti e a rischio commissariamento. Una politica fatta di sotterfugi per gettare fumo negli occhi alla gente. Paolo Frattura e la sua maggioranza questo lo sanno bene. Forse a non averlo ancora recepito sono i consiglieri di opposizione a Palazzo Moffa, l'ultima frecciata del senatore Di Giacomo verso lo schieramento di minoranza in consiglio regionale.